Un minuto di silenzio in memoria di Melissa Bassi e delle vittime del sisma che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna. Si avviano così i lavori del Consiglio regionale, durante i quali il Presidente della Regione, De Filippo, ha relazionato sulla questione dei vincoli e degli effetti derivanti dal rispetto del patto di stabilità. Rispetto a questi temi è stato stabilito un ulteriore approfondimento nella seduta del prossimo 28 maggio. Tre le mozioni approvate nel corso della seduta. La prima sulla situazione occupazionale della società Data Contact e la seconda sugli strumenti di accesso al credito. Attraverso i provvedimenti, il Consiglio impegna la Giunta regionale ad adottare ogni intervento utile a garantire l'occupazione dei lavoratori impegnati in Data Contact e a favorire il sistema delle imprese. Con la terza mozione relativa all'Alsia, il Consiglio impegna il Governo regionale a presentare entro 30 giorni un disegno di legge di riforma della governance in agricoltura e a garantire un'efficiente gestione dell'ente anche rispetto ai lavoratori impiegati a tempo determinato. L'Assemblea ha infine approvato due delibere relative all'edilizia residenziale pubblica e il bilancio di previsione 2012 dell'Ater di Matera.